Con Pio Golin di Unas parliamo della firma del contratto degli artigiani. Oggi abbiamo firmato il contratto del settore artigianato, il settore che noi rappresentiamo e siamo soddisfatti perché siamo arrivati a questa firma con un confronto tecnico e siamo arrivati a questa firma in una relazione bilaterale. Dopo tanti anni che si firmava al tavolo tripartito siamo ritornati a quello che è lo spirito fondamentale nelle relazioni sindacali e nelle relazioni legate all'ottenere un equilibrio e un documento che sia specifico per una categoria e non di stato generalizzato. Non per disconoscere i tavoli di tripartiti passati che magari come riferimento e come confronto possono sempre essere utili, ma siamo convinti e altresì che sia fondamentale un confronto specifico per ottenere quei risultati necessari al settore che viene regolamentato, in questo caso l'artigianato dove i datori di lavoro sono imprese artigiane e i lavoratori in essere impiegati sono quei lavoratori un po' particolari in senso positivo, cioè persone che sono molto spesso legate quotidianamente con il datore di lavoro perché lavorano e sono colleghi del datore di lavoro che in primis con loro opera di lavoro. Grazie. Grazie.